Paolo Fox, oroscopo di oggi mercoledì 16 ottobre, le previsioni segno per segno. Amore, lavoro, benessere, fortuna. Cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della tv? L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 16 ottobre. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dalle sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Latte Miele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Giornata dinamica ma fate attenzione a non stressarvi troppo. Secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox, in amore potrebbero emergere piccole tensioni con il partner. Sul lavoro, invece, è un buon momento per chiarire alcune situazioni e migliorare le collaborazioni. Non trascurate il benessere fisico, prendetevi una pausa per ricaricare le energie. La fortuna non manca ma evitate decisioni impulsive. Ascoltate di più le persone vicine per evitare fraintendimenti. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Toro, 20 aprile, 20 maggio. La vostra determinazione sarà fondamentale per portare a termine progetti importanti. La passione è alta ma in amore dovete mantenere l'equilibrio tra emozione e ragione. Sul lavoro potrebbero esserci occasioni da cogliere al volo, fate attenzione comunque a non esagerare con le spese. Approfittate di questo momento anche per risolvere vecchie questioni, situazioni che vi portate dietro da un po' di tempo e che magari non possono essere più rimandate. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Gemelli, 21 maggio, 21 giugno. Giornata ideale per rafforzare i legami sociali, potreste ricevere proposte interessanti da amici o colleghi quindi tenetevi aperti alle opportunità. In amore è il momento giusto per esprimere i vostri sentimenti con chiarezza. Sul lavoro nuovi contatti potrebbero aprirvi porte interessanti. La fortuna vi sorrid, ma fate attenzione a non farvi distrarre da situazioni futili. Mantenetevi concentrati su ciò che conta davvero. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Cancro, 22 giugno, 22 luglio. Oggi sarete particolarmente sensibili, il che potrebbe portarvi a reagire emotivamente a situazioni banali. Cercate di mantenere la calma, suggerisce Paolo Fox, soprattutto nelle relazioni. Al lavoro si aprono possibilità di avanzamenti o richieste importanti. In amore evitate polemiche inutili e cercate di godervi i momenti tranquilli. Prendetevi cura della vostra salute mentale e non fatevi abbattere da qualche piccola difficoltà. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Leone, 23 luglio, 23 agosto. La vostra creatività sarà la chiave per superare ostacoli. In amore potrebbe riaffiorare una persona dal passato, agite con prudenza. Sul lavoro la determinazione vi permetterà di affrontare sfide complesse. Lo stress resta molto alto perciò trovate tempo per voi stessi. La fortuna non è al massimo ma con impegno riuscirete a compensare. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Vergine, 24 agosto, 22 settembre. In queste 24 ore siete particolarmente organizzati e precisi, il che vi aiuterà ad adempiere al meglio ai vostri compiti lavorativi. Cercate di essere più pazienti in amore e meno critici verso il partner. La salute richiede attenzione. Migliorate la alimentare e fate più attività fisica in modo da sentirvi meglio. La fortuna vi accompagnerà nelle piccole cose, in ogni caso non aspettatevi grandi sorprese. Continuate a lavorare con dedizione. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Le relazioni interpersonali saranno centrali anche se potrebbero sorgere piccoli disaccordi. Cercate di mantenere un dialogo aperto e costruttivo in amore, mentre al lavoro la cooperazione con i colleghi sarà essenziale per raggiungere i vostri obiettivi. Preparatevi a una spesa imprevista che potrebbe destabilizzarvi. La fortuna vi sarà amica ma solo se riuscirete a trovare equilibrio nelle scelte. Siate diplomatici nelle questioni familiari. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Sentite il bisogno di fare un po' di introspezione. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che desiderate davvero. Secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox, in amore le emozioni potrebbero travolgervi, sarà importante mantenere la lucidità. Sul lavoro una nuova opportunità potrebbe presentarsi all'orizzonte. La fortuna vi sorriderà se riuscirete a rimanere concentrati sugli obiettivi a lungo termine. Non fatevi sopraffare dallo stress. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Vi sentirete particolarmente avventurosi e desiderosi di provare cose nuove? Il vostro spirito libero potrebbe attrarre persone interessanti. Sul lavoro cercate di uscire dalla routine e sperimentate nuove vie, potrebbe spuntare qualcosa di molto interessante. La fortuna vi accompagnerà nelle decisioni coraggiose, attenzione a non esagerare con i rischi. Rimanete aperti alle opportunità che la giornata vi offrirà. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. È una giornata in cui potreste sentirvi sopraffatti dalle responsabilità, sarà molto importante delegare e non cercare di fare tutto da soli altrimenti rischierete di non farcela. In amore, assicura Paolo Fox, la sincerità sarà la chiave per rinforzare una relazione. Prendetevi del tempo per rilassarvi e recuperare le energie. La fortuna sarà in lieve crescita ma attenzione a non sovraccaricarvi. Siate equilibrati nelle decisioni e ragionate bene prima di fare una scelta. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. La mente è piena di nuove idee e in queste 24 ore potreste svilupparne una molto promettente. In amore, invece, c'è rischio di cambiamenti inaspettati ma non dovete avere paura. Seguite il flusso e lasciatevi guidare dall'istinto. Sul lavoro le vostre innovazioni potrebbero portare grandi successi se riuscirete a mantenere la calma. La fortuna sarà dalla vostra parte, non dimenticate di prendervi cura della vostra salute mentale. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. Siete particolarmente riflessivi e sognatori. Seguite il cuore, suggerisce Paolo Fox, ma fate attenzione a non idealizzare troppo il partner altrimenti potreste rimanerci male o restare delusi. Al lavoro mantenete la calma di fronte a nuove sfide e tutto andrà per il meglio. La fortuna, infine, migliorerà verso la fine del mese. Nel frattempo ascoltate il vostro corpo e non trascurate la salute. Fidatevi delle intuizioni perché vi guideranno. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. È una giornata in cui potreste sentirvi sopraffatti dalle responsabilità, sarà molto importante delegare e non cercare di fare tutto da soli altrimenti rischierete di non farcela. In amore, assicura Paolo Fox, la sincerità sarà la chiave per rinforzare una relazione. Prendetevi del tempo per rilassarvi e recuperare le energie. La fortuna sarà in lieve crescita ma attenzione a non sovraccaricarvi. Siate equilibrati nelle decisioni e ragionate bene prima di fare una scelta. Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. La mente è piena di nuove idee e in queste 24 ore potreste svilupparne una molto promettente. In amore, invece, c'è rischio di cambiamenti inaspettati ma non dovete avere paura. Seguite il flusso e lasciatevi guidare dall'istinto. Sul lavoro le vostre innovazioni potrebbero portare grandi successi se riuscirete a mantenere la calma. La fortuna sarà dalla vostra parte, non dimenticate di prendervi cura della vostra salute mentale.